non c'è tempo da perdere nel mcu perché il tempo passa nel multiverso tempo passa per loki il tempo passa per noi e sicuramente questa volta per la stagione 2 di loki batte che non ho parlato ancora questa stagione perché ho fatto un video in particolare riguardante l'argomento si non ho mai caricato esatto lo caricherò prima poi devo e quindi niente adesso vi lascio al resoconto e quindi sigla ci proviamo dai ciao a dopo bentornati come potete vedere oggi parliamo di una cosa importantissima di questo però di queste cose qua parliamo dei avvengers degli mcu di tutto ciò che riguarda questo multiverso di questo universo fantascientifico e tutto ciò che riguarda il passato il presente e il futuro delle mcu ma soprattutto di loki e per la stagione 2 loki 2 allora questa volta ho pensato di fare questa cosa in particolare riguardante due episodi a volta ci ha visto che sono sei episodi riguardante la serie di loki io mi chiedo ancora mi avete fatto 9 episodi per shulk e vi fate solo sei episodi per l'occhi 2 insomma anche se vi sprecavate più e facevate sei nove episodi per l'occhio non mi lamentavo mica eh raga vabbè comunque partiamo dal presupposto la seconda stagione di loki mi è interessata molto dal come è cominciata cioè ripetendo subito della prima ma a parte questo il fatto che loki cognizzi parecchio mi ha fatto pensare al come e perché sta clicciando da quello ho capito alla fine della prima puntata siamo arrivati l'assoluzione del fatto che lui doveva succidarsi nella linea temporale affinché lui il vero loki rimesse integro e non si sfasasse ancora all'interno della tv e e del sacra linea temporale e di diversi multiversi e mi dico, ok ma la vera domanda è ma se l'occhio si è falciato da solo da quel che pare, perché non si è visto chi l'ha falciato nella linea temporale in cui era finito parallela non si è visto, si è visto tanto che quella linea parallela lì stava andando in declino totale, in un caos assurdo e c'era un'emergenza totale non ha trovato nessuno per falciare assurda sta cosa, io mi dico come cavolo fai a non trovare nessuno con quel taser lì che ti falcia mannaggia, senti ce l'ho dare poi che squilla, hai 5 minuti di tempo e cosa pensi fare, camminare piano piano per cercare, ma corri e niente, comunque a parte questo vabbè, a parte che comunque Tom Hiddleston personaggione anche quello riguardante come cavolo si chiama adesso, mi senti cato ragazzi, mi senti cato i nomi un attimo Oroboros, OOB, scusate cioè i personaggi sono assurdi cioè, il senso, la loro espressività la loro interpretazione il loro coinvolgimento di Sylvie di Mobius di Tommy di Associae Loki e di O.B. Oroboros è assurdo cioè riescono veramente ad essere espansivi e espressivi così tanto che veramente non ho mai visto una cosa simile anche perché forse è la prima volta che ci faccio molto caso ma nelle altre serie non ho visto questa espressività come in questa serie a livello sentimentale e non però a parte questo io dicevo che se stai per essere falciato o suicidato da te stesso tu ti metti a corre cosa cavolo ti metti a camminare alla cerca di un cellulare poi esce da quella sala lì Sylvie che è chi cavolo è quella Sylvie? io ho capito che di Sylvie ne esiste una sola perché Sylvie è una variante di Loki se non sbaglio quindi c'è Loki c'è Sylvie boh non mi è chiara sta cosa il senso Sylvie è uno e Loki è uno ok abbiamo visto che altri Loki ci esistono ma sono tante varie diverse e non queste stesse ambianze abbiamo visto che qualcuno ha falciato Loki e l'ha rispedito nel preciso istante in cui serviva indietro e io ho la sensazione che possa essere Loki stesso o aver falciato se stesso e mi dite te perché? io mia sensazione è che allora a parte che sembra che troviamo in loop temporale una specie di viaggio nel tempo ma poi mi dico io se un Loki falcia un altro Loki succede che cosa? che di conseguenza è una cosa diciamo a catena perché così a affetto catena tutti si salveranno teoricamente o almeno così l'ho pensata io poi vabbè Sylvie si sta a fare i carrivi suoi vanno in 1982 in un McDonald's a caso anche lì mi dico quella lì è durante l'inatemporale la sacra di intemporale ma poi la roba lì è più strana anche più sola che tutti hanno già parlato ma vorrei parlare anch'io cioè tu mi stai dicendo che sulla sacra di intemporale se fai un'azione comunque non interagisce con il futuro e col passato però mi stai dicendo nella TVA Oroboros cioè sta conversando con il oh cavoli con il Loki del passato eh la madonna oh oh così cioè il Loki cioè Oroboros sta conversando con il Loki nel passato e a prendere queste cose nel presente cioè è un po' complicata come han detto appunto molti altri più importanti diciamo youtuber a livello cinematografico sulle MCU è quasi alla viaggio nel tempo la cosa giusto? sì e allora io mi chiedo però una cosa in particolare mi chiedo come sia possibile che accada per esempio solo la TVA che dovrebbe essere esterna al tempo ma non accada nella sacra temporale o nei multiversi cioè nel senso la TVA è al di là del tempo staccata però sta ricevendo anch'essa dei frammenti dal passato della TVA stessa boh comunque alla fine comunque Loki prima passato tutto il viaggio e tutta puntata a viaggiare indietro nel tempo nel passato della TVA l'ultima clip si vede che è passato al futuro della TVA nel quale il futuro ci sono tutte linee temporali impazzite tutte varianti ok e va bene quindi vabbè ci sta cioè in realtà non ci sta però ci può stare e lì risolviamo il problema del glitch temporale di Loki dei salti temporali di Loki ma io mi dico ma me lo metti nel trailer sembra una cosa così importante veramente risolto in tre secondi la situazione del glitch temporale delle salti temporali di Loki cioè abbiamo passato a parlarne in tutto il trailer e alla fine vedi due minuti questa roba qui e basta fine mi sembra strano anche a parte una cosa ancora che vorrei dire non azzerdatevi a ridurre ancora il minutaggio delle puntate 40-45 minuti van benissimo ci stanno tutti per ora stanno insolvendo tutte le situazioni e anzi ognuno di noi si sta facendo sempre più domande riguardante questa quest'azione qua o sbaglio si e comunque si a parte che Ouroboros comunque è rimasto sempre il genio della TVA ma nessuno sapeva della sua esistenza Mobius abbia scoperto che come tutti gli altri personaggi della TVA cosa è stato palciato dalla linea temporale per finire a far parte della TVA però da quel che ho capito penso io parere personale potrebbero aver visto tante vite questi e addirittura essere assietati tutte le volte perché Ouroboros si ricorda di lui lui Mobius no e la cosa è strana molto strana ma passiamo a parlare anche del secondo episodio perché veramente il secondo episodio è qualcosa di assurdo già da come comincia comincia secondo me già in un modo bellissimo in un viaggio del tempo perché ah dimenticavo da oggi una cosa caduta la questione del Kang è caduta la questione dei tre custodi del tempo ci sono dei personaggi che hanno preso il posto che è tre custodi e ognuno di loro ha un'idea diversa su cosa fare con le diverse linee temporali del passato qualcuno pensa a preservare perché sono persone che vanno trabordate qualcuno pensa a ammazzarle tutte come facciamo già prima qualcun altro invece ci astiene vabbè però il fatto sta che se mandi in giro dei tuoi custodi o diciamo i tizi del tempo dico io i time man come si chiamavano i minute man esatto io mi dico li mandi in giro il tempo a cercare Silvie perché dici che a causa del processo del tempo sbagliato è Silvie che ti ha appena salvato da un tiranno che nell'MCU si sta facendo sentire ora abbiamo due o tre versioni di Loki ma comunque voglio flexarvi ancora una volta questa cosa perché purtroppo alla fine io non l'ho pubblicata la recensione di Ant-Man però comunque io l'avevo detto che a fine di Ant-Man sarebbe stato presente i Loki ma nessuno mi aveva creduto e comunque l'inizio della puntata lì nel quale si trovano nel 1972 mi pare adesso guardiamo bene aspetta 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 un secondo 1977 ci troviamo siamo un sacco a tenere temporale e lì a parte il fatto che i vestiti loro mi ricordano molto uno stile spionistico quale James Bond a parte il fatto che stanno seguendo X5 che ha informazioni riguardanti Sylvie perché allora non importa capire dove è finita Sylvie perché Sylvie è rimasta dentro il futuro del TVA se è la stessa TV se è la stessa Sylvie perché non si ha ancora capito questa cosa e niente ma lì rivedere i poteri in tutta la sua possenza di Loki è stato qualcosa di bellissimo il potere dell'illusione il potere dell'inganno il potere di riuscire a comandare i personaggi e le ombre qualcosa di maestoso veramente mi ha fatto godere un voto vedere questo anche se ho visto che comunque i bracciali del tempo hanno comunque potere anche al di fuori della TVA ma anche all'interno della TVA questo è l'unico oggetto che c'è quanto pare però vabbè a parte questo poi il secondo episodio è veramente bello per quel flashback che il buon Loki ha in compagnia di Mobius riguardando e pensando alla battaglia di New York del 2012 e appunto di Avengers primo nella quale appunto lui cerca di incantare Tony Stark con lo scettro del potere dove c'è appunto la gemma del tempo senza che lui lo sappia ma vabbè sono cose che ricordate anche voi mi è sceso nella lacrimuzza sentendo questi episodi però veramente questo episodio qua mi ha fatto proprio vedere le vibes di un Dayton indietro al Loki che conosciamo perché effettivamente ragazzi questo Loki di cui parliamo adesso non è il Loki che è morto contro Thanos questo Loki è stato prelevato letteralmente dal 2012 e questa è la cosa più assura che questo Loki del 2012 ha avuto comunque più esperienza più maturazione rispetto a un Loki del 2018 che è morto per mani di Thanos ma vabbè dettagli ormai lo sappiamo tutti un giorno vorrei proprio vedere come verranno a incontrarsi questi due personaggi Loki e magari Thor magari in senso sarebbe molto bello perché adesso ragazzi immaginatevi il fatto che Thor è a 4 è stato girato e l'abbiamo visto l'anno scorso in estate ma lui ancora soffre per la pari del suo fratello e non sa che in un universo appunto nell'universo c'è un altro Loki a piede libero che comunque non ha ancora capito che morirà l'occhio del presente e Thor non sa ancora che potrebbe trovare il suo fratello anche se non è il suo vero fratello perché ha un'altra mentalità ma dettagli ha la mentalità salvatoria della patria e del mondo rispetto a Loki nostro che è stato un tiranno vabbè dettagli perché lo sa anche lui stesso che è stato un tiranno però ha avuto la maturità di dire non so più quel personaggio di volta almeno dal suo discorso è apparso questo che dicesse comunque a parte questo il come hanno catturato X5 è stato qualcosa di assurdo il fatto che comunque molti minutemen fossero stati invignati nelle varie linee temporali affinché si possa trovare il CV mi fa capire che o vogliono esattare il tempo come faranno a fine dell'episodio oppure il loro unico obiettivo è quello di trovare il CV ma trovare il CV perché vuoi trovarla? perché ha ammazzato il custode del tempo? cioè non ho capito questa cosa ancora perché Silvia è così importante? sarà una mia svista è probabile perché io capisco che Loki e Silvia creano questa intesa l'hanno creata anche a fine di questi episodi infatti nel McDonald's quando vanno nel 82 a cercare Silvia Loki è in compagnia di Silvia Mobius è in compagnia di X5 dice X5 dove andaccenda qua sta in presetta tutte le linee temporali e alla fine vediamo che ne rimase soltanto una come dice una canzone uno su mille ce la fa ma vabbè a parte questo discorso c'è da dire che questo episodio è stato veramente qualcosa di poetico mi piace mi piace molto questo episodio per il come si è svolto e soprattutto non ho parlato del fatto che comunque Loki ha mantenuto la faccia da cattivo del 2012 perché in questo episodio ci fanno vedere tanti rimandi al 2012 ai suoi poteri ai suoi stregoneri ai suoi sotterfugi al suo modo di come posso dire essere convincente e quindi manipolatore il potere di illusionare la gente il potere di essere un leader essere potente spaccare tutto pur di ragione l'obiettivo ci sta ci è stato questo ci sta assolutamente però quello che volevo dire io assurdo ma a dirsi è che come posso dirvelo in breve mi è piaciuto questo Loki perché abbiamo visto anche quando c'era l'interrogatore di X5 che era proprio cattivo o se non era cattivo era un ingannatore qual è il suo nome appunto Mobius e Loki ormai davvero che era una squadra perfetta mamma mia questi due personaggi prima si odiavano adesso sono una squadra assurda perfetta e proprio complementare uno è buono l'altro è cattivo sono andati entrambi buoni uno è dolce l'altro è più violento uno è calcolatore l'altro è più sentimentale assurda sono personaggi che mi piacciono un botto ma a parte questo c'è da dire che Mobius ha cominciato a capire come ragiona Loki e ha usato bene la sua tecnica ci sta un botto comunque come Loki cerchi di farsi rispettare inchiudendo X5 dentro a quel cubo facendo restringerlo sempre più se non farlo morire ci sta anche vedere finalmente Mobius che comincia a far cadere quella sua scorza dura da personaggio del TVA che è appunto è a capo del TVA che appunto è un personaggio semplice perché adesso gli ha messo il tallo nell'orecchio il buon X5 vuole scoprire anche lui qualcosa del suo passato perché non sa niente perché è stato il tanto che è stato risettato come tanti altri personaggi della TVA quindi io mi aspetto appunto come abbiamo già visto nei trailer che comunque finalmente Mobius scopre quale è stata la sua vita passata perché comunque anche il discorso però di Mobius ci sta nel senso se è stata bella è un conto vorrei già in realtà se è stata bella è un conto non vorrei viverla proprio e quindi è meglio che abbia cancellato la memoria ma se sta brutta allora forse era giusto viverla o forse era il contrario di ragionamento e quindi comunque in un modo in un altro dice meno male che non l'ho vissuta per non creare i problemi qua e sicuramente adesso l'obiettivo è cercare la verità è cercare Silvi è cercare i temporali salvaguardare salvare e non più distruggerle questo dice in pratica esista assolutamente poi vorrei aggiungere anche il fatto che come posso spiegarvi brevemente anche B15 sta avendo un ruolo molto importante in questi episodi finalmente fa stata la parte giusta dei buoni e quello che volevo dire è Miss Minus amica delle guardie maledetta nel senso veramente Miss Minus se abbiamo capito che comunque ecco l'intelligenza artificiale è sempre presente onnipresente capisce tutto sempre presente ma chissà da quanto dato ieri il passato non c'era ancora traccia perché da quel che so Loki quando è nato il passato con il glitch con il ferge nel tempo non ha ancora sentito parlare di Miss Minus si sa soltanto che quando è comparsa Renslayer è scomparsa anche Miss Minus questo vuol dire che ha un legame abbastanza forte con il Kang e il Kang nostro come sappiamo bene è scomparso e appunto il fatto che il Kang nostro sia muerto c'entra con Ouroboros perché perché le linee temporali saranno avendo dei problemi molto molto pesanti nella stanza del tempo del controllo del tempo e Ouroboros non riesce a controllare perché la traccia temporale che serve è quella di Kang ma Kang è stato ammazzato a meno che adesso non tornino di nuovo dietro il passato e capirei perché usano ancora il viaggio nel tempo il viaggio temporale il glitch temporale lo capirei benissimo però in questo caso come fanno nel senso usano delle tute alla endgame oppure che ne so troverà qualche modo il dio dell'inganno non so come in realtà perché poi non ho ancora capito come viaggiano nel tempo attraverso i portali vari però questa è un'altra cosa ancora e sì comunque la situazione riguardante i viaggi temporali o i salti temporali è particolare è particolare il fatto che il filamento del tempo il filo del tempo dovrebbe essere legato però non riesco più a legarlo non riesco più a controllarlo perché perché la persona chiave è morta e Silvia è l'unica che sa cosa fa in questo caso almeno perché l'ha ammazzato letteralmente ma vabbè i dettagli un po' la fase critica mi ha ricordato la puntata in cui erano finiti alla mentis durante il primo episodio del Silvie e Loki un po' me l'ha ricordato c'è da dire che anche in questo caso purtroppo si ha a che fare con personaggi che scompaiono del tutto in che senso scompaiono del tutto nel senso che vengono cancellate mia idea temporale perché X5 è conversa e vanno nel covo in cui si trovano i diciamo cattivi del TVA però scoprono che le grandi temporale sono state già lanciate ed è già troppo tardi ed è rimasto soltanto uno come direbbe già rimanere uno su mille ce la fa in realtà non so se è un mille o molti più comunque penso essermi spiegato abbastanza bene praticamente adesso partiremo alla ricerca di Kang o di un suo sostituto che sappia qual è l'area temporale sua e per scoprire cosa succederà alla TVA e dobbiamo scoprire dove è finita in pratica Miss Minutes ora ci hanno messo anche di mezzo costituzione riguardante Mobius che è appunto nel scoprire il suo passato Sylvie non sappiamo cosa farà adesso perché è tornato nell'82 però ha con sé ancora il time pad di Reslayer se non sbaglio dobbiamo scoprire dove è finita Reslayer e secondo me avranno a che fare con un altro dei Kang perché ragazzi secondo me in questa serie cioè già ne ha avuto a che fare con tanti un altro Kang il buon Ant-Man secondo me scopriremo qualcosa riguardante questi Kang anche alla fine di questa serie e sarebbe anche giusto così perché comunque diciamo che il personaggio che si sta più avvicinando a questa guerra temporale è appunto il nostro Loki oltre a Ant-Man che non è ancora parato con nessuno quindi Boh nel senso mi è impostato nell'acquistazione ma vabbè dettagli a parte questo basta penso che ho detto tutto personaggi assurdi ripeto e basta niente raggiungere comunque quel 77 lì riguarda anche la guerra temporale quindi è giusto in linea con gli anni successivi però veramente le vibes di quella puntata lì di questa di questa puntata mi ha ricordato le vibes in cui c'è il trailer a fine di Ant-Man in cui si presenta il nuovo Kang e per quello che siamo sicuri che c'era un nuovo Kang perché nel trailer c'era e in quel trailer lì si chiedevano sei sicuro che quello lì il ragazzo le persone di cui parlavano tutti si e ne ha paura l'occhi non c'è non c'è Silvi con lui quindi presumo che abbiano andati in dio nel tempo lui e Mobius e basta e non Silvi che chissà cosa sta facendo però boh sarà facendo qualcosa secondo me questa risposta l'avremo già nella prossima puntata ma adesso vediamo quindi boh non c'è sa che guardare giovedì o venerdì la prossima puntata e fra due puntate saremo ancora qua a riscuterne perché ho deciso che ogni due puntate facciamo questo recap grazie a tutti ditemi se vi piace questo format e seguitemi lasciate un like un commento e a presto con un nuovo video riguardante l'MCU ne ho molti in mente però non ne ho mai girati ed è ora di farlo ciao a tutti ci vediamo in un'altra linea temporale tra qualche settimana ciao